e si conoscete che non si 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 o attualmente sono conosci in Uriana di Università di Arrua si ando non sapete conversando un rato per la quarta birra e facoltà però primordialmente avete il dia di maestro cio l'anno che non si che non si che non si che non mi piace e senti un docente allumente Come vai novi Come vai Come vai E noi E noi Conoscete Asp только un dia Il momento di un momento di un momento di responsabilità Una grandeгляmpenda per la quarta all'inquizione Il momento di vivere la nostra comunità Ora come penso Non mi mani mai 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 la mia storia E per la mia storia di vita Non mi mani mai 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 un docente Ok. Mi sono in casa, mia mamma è docente, ho lavorato in scuola per più di un decadale, ho venuto per due decadali. Ora mi sono andata e guarda per Kiko, mi sono andata per il esforzo e dedicazione in me lavoro. Non c'è nessun motivo per me rendere contento. Mi sono andata per contribuire alla mia comunità direttamente. E direttamente, come persona, poter influenciare per altre persone, sia adulto o joven, ma che, perché non ci sono i nostri ampi. Se non ci sono solo i nostri amici. Ci sono i nostri amici, i ci sono i valori come persona, i amici i amici. E i nostri ampi è contagioso. E i nostri amici, i nostri amici, i nostri amici, i nostri amici e i nostri amici, e i nostri amici. Cosa è sempre una relazione online, la radio, che stiamo in noi, e stiamo con noi. E i nostri amici, è il nostro amici. questo è un grado che abbiamo qui anche qui, venendo di parte, guardando che un tempo non si può guardare la tua vita, per esempio, il mio mese, il mio mese, il mio docente sta andando in una fase di inizio, e poi guardando che un tempo non si può guardare i nostri maestri, ora che non si può guardare, non si può guardare il momento che non si può guardare, nel caso per la qual è la educazione della nostra comunità. E questo è un'herenzia più bella con un coraggio, un proposito, un motivo e un paio, un convicciamento in una vita, quindi si può passare per altre persone, per altre generazioni, per vedere questa buona comunità, che sia la più bella di un docente. È un'herenzia più bella di un docente. È un'herenzia più bella, che è un'herenzia, è un'herenzia. Seguro che tu, i studenti che ti senti, lo compartei, non solo conoscivano, come un'herenzia più bella, come un'herenzia più bella, come un'herenzia più bella, ma mi sono sicuro come un docente, per avere un'herenzia più bella, come un'herenzia più bella, come un'herenzia più bella, bene? Faccio qualcosa di nuovo, offre rinforzare la abilità e la conoscenza, join OGM. Questo è un programma che è sempre promovendo di tutti i edad di background per studiare. La Università di Aruba, in generale, è promuovendo per tutti i tipi di gente, però OGM è in particolare per i classi diversi. È un hobby diverso. Ci sono tutti i tipi di un gruppo. Ci sono stati dinamiche molto interessanti e ci puoi anche il limite di una classe. Correcto, correcto. E ci sono stati di un'università di Aruba, che non è un limite di edad per la qualità di studiare, ma non c'è un limite di edad per la qualità di conoscenza. Quindi, se facciamo una pausa, un pari anni passi, ci sono stati di un'università di Aruba. C'è 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 un'università di Aruba. È un'università di Aruba. C'è un'università di Aruba. C'è un'università di Aruba. Del DOCH. C'è un'università di Aruba. Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Ciao.